Esistono tante leggende metropolitane riferite alle vaccinazioni nei pazienti ematologici. A parte qualche rarissimo vaccino che non può essere fatto perché può creare dei problemi di per se stesso, la maggior parte dei vaccini sono sani e vanno fatti, perché comunque il paziente con malattie ematologiche è più soggetto ad altri di sviluppare problemi infettivi che alla fine potrebbero essere anche più pericolosi che una persona sana. Non c'è nessuna controindicazione. Non c'è un'immunodepressione e di conseguenza non essendoci un'immunodepressione da quel punto di vista lì è esattamente uguale a una persona normale.